Ciao a tutti! Oggi voglio parlare di una cosa che sta a cuore a tutti quanti. C'è una frase molto carina che mi sento di dire e ovviamente non è la mia ma la rendo ed è l'amore è bello finché dura. Voglio presentarvi Barbara. Barbara mi ha scritto una mail molto commovente, molto toccante, soprattutto perché ci sono passato più di una volta, dove vi parla appunto della sua bassa ostima, del fatto che comunque lei non si sente più bella, vorrebbe vedersi cambiata, quindi io ho pensato per lei a una trasformazione un po' romantica. Insieme ad Ivan infatti abbiamo pensato di introdurre un po' il discorso della pin-up, quindi uno stile anni 50 dove la sensualità e il romanticismo secondo me si sposano in un binome perfetto. Spero che la trasformazione vi piaccia, ci vediamo e ci vediamo dopo. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.